Salve onorevoli, rieccoci qui in un nuovissimo episodio, come sempre sono l'Arax di Cormaris e siamo su Sons of Valhalla. Un gioco particolarmente interessante, come vediamo e come stiamo anche, cioè sto vedendo grazie a voi più che altro. Ok, no, tutti qui, bene, seguitemi. Abbiamo un bel esercitino e ora direi che possiamo avanzare nel prossimo, come posso dire, nel prossimo... Aia, però porca puttana ragazzi miei, cioè... Difendete. Dai. Mi sposto un attimo per mangiare, grazie. È una bevuta di idromele, non farà male. Ok, beh forse ho voluto un po' troppo idromele, essere sinceri. Non so perché quella roba è andata in fiamme, non l'ho toccata io. Ok, facciamo, uccidiamo questi stronzi. Però forse abbiamo un po' troppi arcieri e pochi guerrieri, sai? Abbiamo forse troppi, troppi arcieri e... Ma ci servirebbe qualcosa per fare da capo d'assedio, se no non ci riusciremo mai a distruggerli, questi brutti bastardi. Ma, ma seriamente non ci riusciremo mai, mi scusi. Quanto cazzo di tempo ci mettono? Ma pure voi arcieri, micia. Un po' di prestanza in più magari, ve ne sarei gentili. Cioè, gentilmente lo apprezzerei. Ok, via. Ma è tipo uno di quegli assedio dove più butti gente, più riesci a farlo. Ma più che altro perché sembra che lo riparano. Cioè, sembra che lo riparano, non è la mia impressione, vero? Guardate, poi hanno sti cazzo di arcieri che sono quelli che cagano di più di tutto il cazzo. Ok. Mettiamoci qui. Uff. Ma non, 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 non cede. Non cede, questa roba. Perché non cede, mi scusi, buon uomo. Ok. Forse è il momento... Ah, c'è il piromane lì. Cioè, è rimasto solo il piromane, più concretamente. Più nessun altro. Sai cosa? Forse è il momento in cui vado a reclutare. Prima di tutto mi prendo un po' di approvvigionamenti, grazie. Ma soprattutto che vado a reclutare qualche bel simpatico guerriero dal momento. Che forse è l'idea più brillante, a essere sinceri. Quindi, non i tiratori d'arco, ma la caserma. Me ne tiri fuori. Cinque andranno benissimo. Almeno per il momento, prima che crepiamo come dei poveri cani bastardi. E tutto questo volevo anche rispondere un attimo ai commenti. Però, nella situazione in cui stiamo, pensavo che il combattimento sarebbe durato sicuramente di meno. Il nostro amico, però, porco Giuda, sta dando veramente dentro. Ma io non capisco, se me questi riparano. Ne sono pragmaticamente convinto che questi riparano. Questa torre. Ok. Via. Ok. Porca putonna, sembra di tornare a Minecraft che ci si cura con il coso, come si chiama, con il... Ok. Ma quanto cazzo è dura questa roba? Quanto cazzo è dura questa roba? Ragazzi, voi non dovete rimanere fermi. All'attacco. Tutti. E anche abbastanza lestamente, perché ce ne stanno un attimo... Ce ne stanno un attimo dando. Comunque, a parte questo, rispondendo un attimo a Diego, che ha detto... Che il gioco gli interessa e forse lo acquista? Beh, chiaramente, per quanto riguarda questo aspetto, io non ti posso dire più di tanto. Quello che sicuramente, però, voglio specificare, perché è fondamentale, non si voglia che si creda a robe strane. Non vengo pagato per fare questa roba. Ok? Cioè, mi vengono date solo le chiavi del gioco. Non ci guadagni una lira, anzi, magari ci guadagnassi. Quindi, non aspettatevi roba da... Oh mio Dio, guadagni i soldi! No, no, no. Manco per un cazzo. Ok. Già ne abbiamo persi due. Però, con i guerrieri, grazie a Dio, almeno siamo riusciti nell'impresa. Per quanto io preferirei, essere sincero, avere almeno... 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 Dai che è caduta sta merda, dai! Oh! Era anche ora. Ok. Ammazza sto stronzo. Uh! Seguitemi. Cavità per runa. Ok, te ne ringrazio. Attaccatevi, sto che ci siete. Mi raccoglie tutti questi bei... Belle risorse. Quindi il nostro compito fondamentalmente è distruggergli l'avamposto. Distruggergli è un po' un complimento. Gliel'abbiamo demolito. Manca una ruspa, porco Giuda. Manca una ruspa. Però, a parte quello, stavo dicendo, signori... Eh, sì, non ci guadagno un soldo, quindi non pensate chissà che cosa. You're doing amazingly well so far. You should consider building a blacksmith shop. This building allows you to recruit combat blacksmiths. The combat blacksmith will cause more damage to enemy gates and buildings than normal units. I fabbri da combattimento. Che cazzo sono i fabbri da combattimento, mi scusi. Buon uomo. Oh, guarda che carini. C'è un T più P, una promessa d'amore. Che romantici che sono, eh. Ok, quindi dovremmo costruire una roba. Però io ti dico la verità. Ma a me non dispiacerebbe tornare a le origini. Prima di tutto farmi uscire fuori un bel po' di guerrieri che ci mancano. 17. Ora capite perché 17. Perché se io ora vado al mio accampamento qui... Ok, tu mi riesci a creare un... Ma preferisco l'incendiario che non è niente male a dire la verità. Ma a parte questo, torniamo al nostro accampamento base. Vediamo se possiamo espandere ulteriormente la nostra zona. Perché se posso io preferirei continuare qui a tenere il tutto. Ok, potenziamo prima di tutto questo edificio al massimo delle sue possibilità. Poi si pensa eventualmente a potenziare tutto il resto. Ci manca legna. Com'è possibile che ci manchi la legna, tesoro mio? Cioè, ci diamo da fare? Signor taglia legna? Le va di darci da fare? Vabbè, questo cancello è un po' inutile. Tanto fino a qui non ci attaccheranno mai. Non posso costruire il fabbro perché non ho i due... Non ho la legna, fondamentalmente. Questa credo sia legna. Sì, sì, è legna. Porca puttana, ne produciamo veramente poca. Quindi mi verrebbe da dire di trasformare il secondo avamposto, fondamentalmente, in un luogo di produzione pesante, fondamentalmente. Non stiamo qui certamente a... Guarda, beh, ci sono degli scrigni. Perché no? Se ti trovi nelle tue fortezze, ti curi automaticamente fino al raggiungimento dei PS massimi, ma perderai una certa quantità di salute massima. No, meno 20, cioè, vaffanculo. Non mi serve curarmi delle mie fortezze, onestamente. Mi serve veramente a poco, almeno. Diamo un'occhiata qua. Qui sembra veramente messa di merda la zona, eh. Tanto di merda. E quelli sembrano molto cattivi. Anche perché, ok, oggettivamente siamo un passo dal boss finale, però... Non mi ispira grande fecondità e tranquillità questa zona. Ok, andiamo a migliorarli nella caserma. Che ti devo dire? Anche se io volevo costruire altre robe, però va bene lo stesso. Miglioriamo i nostri combattenti. Quindi, prima di tutto, gli diamo un bello scudo. Poi l'addestramento avanzato non sarebbe male, come anche la salute. Ma che diamo? Mocchiata anche i tiratori dall'arco. Area di tiro con l'arco. Sblocca frecce di fuoco per i tuoi arcieri. Aumenta la velocità d'attacco e la gittata. Bah, guarda, ma se sto fatto che abbiamo sempre una carenza di legno, cioè, porca puttana. Amico mio, posso potenziarlo che almeno abbiamo più probabilità di ottenere legna? Perché qui credo che il problema non sia tanto la produzione ma quanto il deposito. Perché ne produciamo magari anche tanta di legno, ma la maggior parte viene stoccata e non riusciamo a creare di fondo delle reali strutture utili. Ok, e quando andiamo a potenziare quelle già esistenti, magari abbiamo il deposito che è a 300, facciamo un potenziamento di 300 e non abbiamo più legna. Quindi, a parte quello, sicuramente a questo punto mi stabilisci qua un bel capanno del taglialegna, perché non ne abbiamo mai abbastanza. E da questa parte, ok, dicevo, da questa parte invece mi piazzi un bel capanno da pesca. Ok, vediamo se possiamo ripotenziare questa roba. Ok, così almeno ci danno una palizzata più resistente fondamentalmente. Ok, là si sono già piazzati 5 arcieri, perfetto, così possiamo colpire più a distanza. Ok, tu mi aumenti di forza, pure tu che non fai male. Ok, 20 su 30 ne abbiamo ora disponibilità. Non so se sto esagerando nel potenziare le robe, però reputo che prima o poi sia necessario farlo, quindi tanto vale farlo il prima possibile. E' necessario migliorare la sala delle feste, qual è il problema? 4 e 75, quello chiaramente è il problema. Ok, forse forse a questo punto ti dico che non sarebbe male reclutarci un medico da campo, così almeno non abbiamo possibilità, bene, ne possiamo produrre uno solo alla volta, porca puttana. Ma se io faccio commercio a 50 cibo con questo luogo, cosa succede? Cioè che io tolgo 50, però guadagno 100. No, io compro il cibo, ma chi cazzo me ne frega a me di comprare il cibo, è l'unica cosa che non mi manca, porco Giuda. Quello che mi manca è la legna. La maledettissima legna è quella che mi manca. Ok, la sala delle feste del resto non dovremmo riuscire più a potenziarla, no, appunto, siamo al massimo. Ok, quantità male, qui possiamo portare più carne, sviluppare l'energia per l'eroe. Direi che potenziare questi due aspetti non è male, visto che ci siamo. Spadaccini con studio, la destra è spadaccino con scudo. Ok, ora effettivamente la destra direttamente con scudo, molto utile. Destra è un arciere, non abbiamo più cibo. Ma porco Giuda, ma io è tutto felice. No, ma tanto ora il cibo ce l'abbiamo. Perché non mi faccio i cazzi miei, mi chiedo anch'io, cioè... Vabbè così pratico, comodo. Invece no, devo parlare. Devo porco Giuda parlare. Quello dobbiamo potenziare al 3, purtroppo. E credo che abbiamo finito buona parte dei nostri rifornimenti economici. Fornisci il tuo equipaggiamento che non fa male, così ti curi anche. Facciamo un bel salvataggio automatico. Prima di avanzare... Loro purtroppo sono tutti edifici soldati senza scudo. Sarebbe utile creare una schermaglia di soldati con scudo per poter avanzare dritti verso l'obiettivo. Anche perché qui mi pare... Una situazione un po' ostica. Ah ok, lì non c'è lo scopo. Pensavo che c'erano due palizzate, quindi ce n'è una sola. Ok, è fattibile, è fattibile oggettivamente. È molto più fattibile di quello che pensassi. Giusto un pochino problematico all'inizio. Perfetto. Ok. Si può fare. Si può fare. Ne sono contento. Più che altro è ora aspettare un attimo che riescano le risorse. Forse in quest'attimo lo possiamo effettivamente sfruttare per leggere un attimino i commenti. Perché porco Giuda, non riesco quasi minimamente a leggerli. A parte questo, per quanto riguarda gli approfondimenti, diciamo, sulla mitologia norrena, non sono un esperto. Conosco qualcosina rispondendo un po' a Stefano. E in generale concordo con Stefano e dire che io adoro, cioè pure io adoro tantissimo questi giochi in stile pixel. Non perché tanto mi ricordano i cabinati. Perdonatemi, ma non c'ero. Quando esistevano i cabinati io non c'ero fondamentalmente. Ok, lo facciamo diventare di livello 3, così almeno ci facciamo delle belle mura e non cagano più il cazzo le persone. E ora siamo belli che resistenti e cattivi. Ok. E dicevo, a parte quello, non c'ero quando esistevano i cabinati. Però comunque mi piace molto questo effetto pixel. Forse perché mi ricorda un po' Minecraft, che per voi magari può sembrare una cazzata. Però è stato effettivamente... Ma vorrei che ci faccio caso? C'è spesso sugli alberi messo queste robe. Dicevo, perché effettivamente è stato il mio primo gioco in assoluto. E oggettivamente non mi ha fatto tanto legare i sandbox. Ma più concretamente mi ha fatto legare a quel concetto base del pixel, diciamo così. Quindi il concetto di creare un po' una situazione nostalgia col pixel. Mi fa ricordare sempre questa cosa. Poi adoro tantissimo questo tipo di pixel simile realistico, diciamo così. O che tende all'essere un minimo realistico. Tra l'altro c'è, guardate, è bello il cane che abbaia. E gli escono tipo le scintille per indicare l'abbaio o la saliva che sta sputando. Dipende dal caso. Comunque sì, i lupi erano quelli che inseguono il sole e la luna. E lo inseguiranno almeno durante il Ragnarok. Ed effettivamente... Dio santo, ma come cazzo vi permettete? Ed effettivamente il loro nome è Freki e Geri. Me ne ero dimenticato. Però nello scorso episodio, se vi ricordate, è quando abbiamo incontrato Odino. Per il resto, rispondendo un po' a Zacca, anche onestamente, quando c'è la mitologia Nordic, che ha effettivamente sempre tanta roba, anche se fatevelo dire con tutto il rispetto. Dicevo, rispondendo al nostro caro amico Zacche, diciamo che effettivamente è sempre un po' la moda del momento, la mitologia nei videogiochi. Sempre quella roba che, a un certo punto, stranamente diventa famosissima. Ma tra qualche tempo verrà dimenticata. Un po' come pensate con Kratos, la mitologia greca, romana, Argonaut. Boom assurdo, poi pian piano, sempre più scemando. Per il resto, per quanto riguarda altri incontri mitologici, forse li avremo, però credo comunque, più rappresentazioni di persone sulla Terra. Non credo, onestamente, ci sarà un momento in cui vedremo, tipo di fatto, ritornare nel Valhalla o altre cose, onestamente. Non credo arriverà con tutto il rispetto per il Valhalla, gli dei e tutto il resto, però credo proprio per come è strutturato non andrà oltre. In questo video sono curioso di vedere se questo arco verrà compiuto tutto. E credo di sì, perché se no, credo che proprio esteticamente li avrebbero allineati, la catapulta al capanno di taglialegna, quindi credo mi aspetto altre cose. Quindi per ora mi costruisci un altro capanno da legna e un altro coso per i pesce. E invece di qui direi che mi costruisci un altro coso per i pesce e un altro taglialegna. Perfetto, così è tutto perfettamente equilibrato. No? E li potenziamo anche, soprattutto la legna, che è quella che ci serve per potenziare gli edifici. Sì, soprattutto, assolutamente la legna. Ok, così almeno questo lo costruiamo, lo facciamo diventare fondamentalmente un grande deposito. Livello massimo raggiunto, ok. Me lo potenzi. Abbiamo finito il cash. Però lo guadagniamo facendo passare quando passano le navi, suppongo. Nemmeno ti posso potenziare al 3, perché giustamente abbiamo bisogno di 400 dindini. Che ci mancano, effettivamente. E qui abbiamo l'oro, che non credo aumenta o diminuisce. Però comunque ci permette di... Magari lo guadagniamo in base a quanti nemici uccidiamo, robe simili, anche perché ci siamo fermi a 192. Non vorrei che qui sia una roba di... Man mano che sale l'argento, otteniamo l'oro. Quello sarebbe veramente drammatico per me. Ok. Quindi, 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 quindi. Sicuramente mi dai un po' più di cibo. Ne ho necessità, letteralmente. Mi dai un po' più di energia. Ok. E forse è anche il momento di tornare un attimo al villaggio principale, così potenziamo anche un po' i nostri guerrieri. Quindi caserma. È richiesto un miglioramento dell'edificio. È certo che te lo miglioro. Certo che te lo miglioro. Ok. Livello massimo raggiunto. Ci manca l'oro. Ci mancherebbe che mi manca un po' di oro. E credo che un po' di spadaccini qui non farebbero male. Non farebbero male, perché questi sono gli spadaccini che hanno la difesa, insomma. Mentre ho sentito un bel suono di corno. Non era una tromba. Quello era un corno. E vediamo quindi di andare a difendere il nostro accampamento. Ma non credo nulla di ingestibile, fondamentalmente. Oh, una runa. Impalatore. Le lance da scagliare infiggeranno più danni. Ok, anche se di fatto io non... Non faccio danni. Ah, quindi noi abbiamo un tot tempo prima di... Diciamo... Ma che cazzo fai? Continui a scivolarmi via, stronzo. Diciamo, abbiamo un tot tempo prima che scada... Diciamo, prima che l'attacco scada. Come vedete si interrompe. Ok, quindi non possiamo stare lì fermi caricati. Effettivamente ha anche il suo senso, però, diciamo... Poteva... Si poteva evitare rendendo la cosa magari un po' più easy. Allora, mi sto preparando per bene, per chi se lo stesse chiedendo. E potrebbe sembrare quasi che stia perdendo tempo. Ma vi giuro, non è così. Quindi, semplicemente, mi voglio attrezzare per il massimo, nel migliore dei modi almeno, per quello che sarà fondamentalmente l'assalto finale. Perché credo che arriverà un momento in cui dovrò distruggere queste due capanne, fondamentalmente. Ok, perché mi servirà spazio per costruire altri edifici. Grazie per l'argento, oro, qualsiasi cosa voi mi stiate dando. E... no. Più è sempre la roba di poter potenziare... Minchia che ti strezza la fucina. È proprio bruttissima. Aumenta la velocità d'attacco e la gittata. Costruisci una riete non male. Come anche costruisci una catapulta, non è male. Ehm... ma la velocità d'attacco... Delle catapulte. Suppongo. Mi auguro. Tra l'altro una riete ha bisogno di diecinque persone. Ok. Quindi dobbiamo arrivare a una situazione in cui... Due... Tre... Quattro... Eh, non ne possiamo produrre più. Perché poi ora se produco la riete... Andiamo a 34. Allora mi produrrai un arciere, magari. Se arriviamo a 40... Vai così. Ok. L'esercito... In maniera un po' scordinata e pronto. Anche se preferirei che qui mi dai un pannello dove mi dici... Oh, hai tre spadaccini, quattro arcieri. Magari non l'hanno pensato. Però effettivamente credo che sarebbe stato particolarmente utile come roba. Gli arcieri non mi sento nemmeno di potenziarli tanto. Se non al massimo la gittata. Gli arcieri non mi sento nemmeno di potenziarli tanto. Però di fondo... Quelli che fanno testa a testa sono loro. Quindi conviene che più di tutti loro... Abbiano il bel botto di resource. Diciamo il botto concreto... Di cattiveria. Diciamo... Loro devono tenere botta. Quindi aumentiamo loro. Seguendo mi chiedo anche se tipo la mappa continuerà. Ma non credo tipo... Ucciso il boss... Sbarcheremo in una nuova zona e dovremo ricostruire tutto. Anche perché poi non avrebbe senso. Cioè cazzo ci siamo potenziati qui. Noi diventiamo immortali fondamentalmente. Ok. Tu quindi invece sei il fabbro. Fabbro da combattimento. Il fabbro da combattimento infige danni ingenti ed edifici e i cancelli. Ah quindi c'era veramente l'unità fabbro da combattimento. E non mi hai detto niente. Ah con lui posso aumentare le cose. Frecce incendiarie. Giavellotti. Un giavellotto infige gravi danni a un nemico. Causa danni da fuoco a un nemico. Chissà se mi dà tipo la roba giavellotti. Ah si mi darà tipo frecce giavellotti. Questa è una figata. Questa è una bella figata. Quindi avremo anche un bel arsenale variegato di armi. Qui mi potenzi questa. Visto che ci sei. Questa è già al massimo. E va bene anche così. Qui non ha un grande senso continuare a stare in questa zona. E quindi direi che ci possiamo. Perché ci mancano i soldi fondamentalmente. Possiamo spostare in quest'altra di zona. E magari dare ordine di potenziare l'edificio. Ok. Sempre e comunque legna. Che è quella che più di tutte ci manca. Quelli con gli scudi sono arrivati. Ma non è arrivato l'ariete. Quindi mi scusi buon uomo. Robomo. Ma pure qua che cazzo c'è? Qui c'è un arciere. Ecco. Vai avanti cazzo. Qua ha preso la prima torre che ha trovato. Si è buttato sopra. Come se fossi a casa tua. Quello che mi manca. Io ne vedo un altro fermo qui. Lui è l'amico Frizza. Ma non avevo reclutato una marietta. Ah sta ancora ora finendo. Madonna puttana quanto cazzo di tempo ci metti. Però apprezzo il fatto che nonostante tutto la mappa è molto più piccola di quella che sembra. È molto più ristretta. Ora se gli dei vorranno ci buttiamo in un ultimo assedio magari. Eccolo qui il nostro bella riete è arrivato di cattiveria. Speriamo che siamo in più che in forze per sistemare la situazione. Sicuramente almeno ho continuato a potenziare qui i vari capanni eccetera eccetera eccetera. Perché così almeno se otteniamo risorse possiamo ottenerle. Non le abbandoniamo sempre come sempre per terra. Spero anche che il nostro caro amico a riete non vada all'attacco da solo. Anzi spero che mi arrivi all'ultimo carichetto di roba. Così almeno potenziamo completamente questa zona tutta a livello 3. E piottiamo di cattiveria. Sembra power che si sia fermato. Mi scusi è buon uomo. Si si è fermato. Se lo faccio così. Comando loro. Se faccio così comando loro. Ok perfetto. Beh allora mantieni una loro coerenza l'edificio. Diciamo così. La macchina da sedio. Anche perché ora che l'ho potenziato io potrei giustamente dire loro attacca. Loro. Seguimi. Immagina che figata che questi hanno piazzato anche loro un altro ariete. Avremo finta di nulla va bene. Ok. Manteniamoci a debita distanza. Magari. Qui no. Cazzo fai te ne vai indietro avanti ragazzo mio. Ma perché? Ma non ho capito. Cioè ora se inverto la rotta. Ma mi si è buggato l'ariete. Porco. Ma perché se cammino dall'altro lato l'ariete se ne va via. Mantenete la posizione. E tu mi vai ad attaccare da quella parte. Grazie. Gentilissimo eh. Seguitemi. Tutti. Seguitemi tutti. Grazie. Ok. Ok. Cominciamo a mangiare. Perfetto. Qui stiamo compiando di cattiveria a distruggere ogni forma di roba presente. Ok. Qui ne vedo uno che è porco giù da bello potenziato. Mazziamo questo stronzo che è durissimo come la morte. Probabilmente. Figlia di puttana. Ok. Demone del fuoco abbiamo ucciso. Qui abbiamo i tuoi combattenti a distanza potranno infliggere colpi critici. Perfetto. Potete tutti quanti seguirmi. Grazie. Buon uomo. Robo uomo. Comunque è andato molto 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 meglio di quello che io mi aspettassi a dire la verità. Veramente molto meglio. Riduci il tempo di rigenerazione dell'energia aumenta i punti di rigenerazione. Cazzo era anche ora che mi davi qualche runa per il combattimento. Corpo a corpo. Sembra proprio che non volevi dare. Ok. In realtà è stato molto più easy di quello che credevo come roba. Cioè. Effettivamente è veramente stato molto più semplice di quello che credevo. Pensavo chissà che cosa invece. Oh. Buon uomo. Stava andando da solo. Olufsen. Nelle nostre strade si crossa una volta. Quindi mi raccontami. Che ti porta a una bella Inglaterra? Valgaard credo sia quello che ci ha fottuto la moglie. Vero? Sì. Che era lui. I can see you are vindictive. Your anger probably leaves no room for greeting among men of honor. Beh però pensavo che fosse più cattivo. Invece è un barbaro comune ecco. Già uno che ti dice non lascia spazio e un saluto tra uomini d'onore ci sta come idea eh. Però meno. Di. Io ti chiedo di nuovo. Onde è lei? Diciamo quantomeno idea di totale bontà ecco. Non è così cattivo come sembra. Nel classico cattivone. Ah uccido tutti. È un barbaro. Fa le cose da barbara. Ok. Red Inghilterra? Ma qui ci sono sempre sti cazzo di alberi. Questa terra è piena di innamorati porco Giuda. Ok. No. Non aspetteremo credo. Credo proprio che non aspetterà. Dall'altra parte Torald porco Giuda. Ok. Ammazziamo giusto questi qui per levarceli dal cazzo. Seguitemi ragazzi. Seguitemi. Andiamo via. Andiamo via. Andiamo via. Andiamo via. Grazie. Andiamo via. Dovete mantenere questa posizione. Gentilissimi. Anche perché credo che forse è arrivato il momento. Di. Ehm. Sistemare un attimo il minimo. Non abbiamo più spazio. Deposito delle scorte. Usare il deposito di provviste di questo avamposto. Ma certamente. Ma certamente che me lo sblocchi. Abbiamo anche un'assoluta necessità a dirla tutta. Anche perché volendo l'esercito è ancora intero eh. Quindi ha ancora la sua forza. Mi spiace che questa praticamente è una vecchia catapecchia. Non ha più un cazzo per essere un edificio. Accidi a cancello. Non esiste il cancello Thorvald. Mi spiace. Cioè non. Non esiste. Ehm. Ripristina. Almeno potenziamo questo. Ripristina anche il cancello. Visto che ci siamo. Forse non te lo apro ancora. Perché siamo al massimo delle risorse. Mi spiace che possiamo produrre un. No. Qui forse ne potremmo produrre uno nuovo. Solo che non abbiamo più. Ehm. Come si chiama. Non abbiamo più. Robe per potenziarci. Cioè non abbiamo più. Uomini disponibili. Per essere più concreti. Ok. Qui stiamo potenziando il tutto. Abbiamo guadagnato un po' di cash. Ehm. Aumenta la velocità d'attacco. Punti salute. Ehm. Direi che migliorarlo non è una brutta idea. Perché così riusciamo ad ottenere. Magari i giavellotti. Che quelli non mi dispiacerebbe avere onestamente. Anche perché con tutti i soldati che abbiamo. Faranno più che un bel effetto. Sblocca le frecce di fuoco. Ma non le avevamo già sbloccate. Ah. Voleva 1200. Pardon. Effettivamente. Non è proprio una spesa da quattro soldi. Detto tra noi. Ehm. Aumenta la gittata velocità. Vabbè. Abbiamo una riete. Non ci serve questa roba. Oggettivamente. Qui. Ehm. Mi aumenti la salute. Assolutamente. Ok. Ehm. Ci servono i cash. Dobbiamo trovare una maniera. Tipo magari se mettono una miniera. Qualcosa. Per sbloccare più cash possibili. Lo apprezzerei. Ma che per questa roba credo aumenti la roba del fabbro fondamentalmente. Il fabbro da combattimento. Però. Boh. Per ora. Ci limitiamo semplicemente a potenziare. Ed. Mettere ciò che abbiamo a nostra disposizione. Ok. Aspetta. Tacchete. Livello massimo raggiunto. Dai che andiamo a 8.50. Dai che andiamo a 8.50. Sbemme te. Oh cazzo. Assalti. Non che abbia particolarmente paura. Ah no. Ce l'hanno fatta in totale. Tranquillità. Poi abbiamo il cazzo di piromane. Da prima. Fa il folle in giro. E funziona. Ti dico la verità. Spostariete. Cavità per runa. Ma. Come si apriva il. Mio coso. Ne abbiamo tre. Vedi che sicuramente mi sblocchi queste. Che quelle che da prima. Abbiamo anche un bel po' piene. Che questo credo che sia per i soldati. Sì. Sì sì sì. È per i soldati. Ok. Per il resto credo ad esempio spero che robe di cavità per le rune e tutto il resto rimangano attive e non mi scompaiano da un momento all'altro oggettivamente. Nella prossima partita almeno. Qui. Volevo le cazzo di giavellotti. Mi aumenti un po' di dromele a questo punto che non si sa mai. Qui livello massimo raggiunto. Perfetto. Mi aumenti la velocità d'attacco e la gittata per gli arcieri. Un po' di punti salute non fanno male. Così almeno sistemiamo anche gli arcieri per il meglio e poi partiamo là per l'assedio finale. Sicuramente non mi porto via... Non mi potenzio almeno la catapulta. Cioè catapulta da riete. Anche perché uno non abbiamo disponibilità di altri uomini. Secondo non ne vedo questa brillantezza nel potenziarli. Ok abbiamo speso tutti i soldi a nostra disposizione. E nel mentre che potenzia questa roba direi che possiamo tranquillamente spostarci per l'assedio finale. Tra l'altro qua tutto in fiamme cazzo. Almeno quando lo conquistavo avrei preferito che si spegneva un po' il tutto. L'avrei largamente preferito. Tornando a noi. Tutti quanti... Aspetta. No, no, non ha torre d'osservazione. Sposta riete. Guarda che figata. Lo possiamo muovere proprio... Di cattiveria. Cazzo però se ne va sempre indietro poi. Beh sapete cosa? Attaccate tutti. Chi se ne frega. Non abbiamo tempo da perdere. Anzi voi. Ok. Ci ho ripensato ragazzi. Stiamo subendo perdite non da poco. No. Purtroppo ormai abbiamo dato l'ordine. Ok. Ok. Ah è bello che loro ci fanno... Ci facevano da scudo. Ci facevano da scudo. Abbiamo fatto una cazzata bella larga eh. Abbiamo fatto una cazzata bella larga eh. Qui poteva essere tutto semplice. Abbiamo perso un boato di roba. Per queste cazzate. Ah loro hanno pure una catapulta. Cazzo. Sai che forse forse è il momento di riniziare a reclutare gente. È proprio il momento di iniziare a reclutare gente. Mentre che voi sfondate, fate, dite... Io creo qualche spadaccino. Non tiro con l'arco. Caserma. Uno, due, tre, quattro e cinque. Almeno questa. Dovrebbero bastare. Perché fino a quando non ho una chiara distribuzione dell'esercito non ci posso fare proprio un cazzo per il resto. Ok. 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 Perfetto. Ok. Distruggiamogli la bella capannina. Vediamo come se la prende il nostro amichetto. Cioè la catapulta di cattiveria ha detto io ora conquisto il mondo. O conquisto il mondo o perdo semplicemente. Quel povero strozzo sta andando a fuoco. Povero strozzo. Un piromane e due arcieri. Questo è il nostro esercito. Fine. E cazzo se stiamo resistendo. Ok. Anche perché loro qui non possono creare soldati. Quindi per questo si sono... Hanno ripiegato nel creare solo e esclusivamente catapulte. Ok. Mentre mi distruggete quella roba va. Visto che ci siete. Ok. Sì però qui ci sarebbe una runa che vorrei raccogliere. Ok. Legno incantato. I tuoi edifici tranne i cancelli della città riceveranno più salute. Ok beh. Non male. Bel rifornimento generale. E... Boh. Se vi dico... Seguitemi. Venite dentro la capanna. O... Vi fate i cazzi vostri. Per curiosità. No. Si fanno i cazzi loro. No no ora dai cazzo. Dicevo. Prima delle sonore divertenti bestemmie. Ok. Oddio. Non abbiamo più... Ma cazzo ma stiamo tirando giù l'intera... Cosa? Ok. Perfetto. Abbiamo qualcos'altro da distruggere chiedo. Siamo troppo veloci Thorwald. Mi spiace. Come cazzo ti chiami tu. Ok. Solo che la cosa è un po' troppo... Un po' troppo... La scivolata è un po' troppo scivolosa. Ecco. Aia cazzo. Aia cazzo. Cos'è andato? In berserk. Aia. Porco Giuda. Si è andato in berserk. Aia. Ok. Non volevo fare questo. Ok. V. 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 Ok. Non so se dovrei anche parare. Però... Non so. Secondo me accetta e scudo non vanno particolarmente d'accordo a essere sinceri. Non mi ispira particolarmente fiducia. Forse mi sono troppo fidato... Aia. Dicevo mi sono troppo fidato del... Mio ipotetico... Esercito. Non potenziando per un cazzo me. E si vede. L'effetto si vede come. Ok. Cazzo sei. Donkey Kong. Non ho capito. Amico mio. Cazzo hai capito. Ma perché l'hai tirata verso l'alto? Era tutto perfetto. Che bella freccia nel petto. Ehi Donkey Kong. Donkey Kong. La smè. Porca troia. Ho fatto malissimo. Apprezzo che però da uomo non d'onore... Ho aspettato che mi rialzassi prima di colpire. Aia. Ok. Fu. Aia. Effettivamente ho dimenticato il colpo leggero. Cioè pesante. Morte di un vichingo. Cazzo. Questa è stata bella dura. Questa. 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 Sai com'è. Where. Where is my axe? My axe. Perché vuoi la tua ascia? Where is Rhea? Who paid you for the kidnapping? Speak. You will kill me anyway. So why should I help you? Beh perché visto che stai morendo almeno fai un ultimo gesto buono. You are right. You will die. But you can decide for yourself how it should be done. Will you die with your axe in your hand and make your journey to Valhalla? Or shall I bury your parts all over the world? So that access to Valhalla will be forever denied you. Che cattiveria. Perché sì ragazzi così velocemente. Credo che tutti lo sapete però ve lo specifico. Quando un vichingo moriva se moriva in attrezzature da combattimenti in armatura in ascia in un combattimento poteva accedere al Valhalla. Se no anche se era un combattimento e perdeva le sue armi non poteva accedere al Valhalla. All right. Agreed. Bishop Elmoud told me to track down the woman. To get her to England at whatever price. So I made a plan. A raid on your village. It only happened because of her. Back in England I gave her to Elmoud and received a pile of silver in return. But I had to swear not to tell anyone about her. Eh è stato onestissimo come vichingo onestamente. Troppo onesti in questa parola. In questa partita anche. What are his intentions with her? I don't know. But I am sure that she is still alive. Ma che bello dopo il villaggio andiamo a razziare pure le chiese. I hope you remember what you promised. Send me to Valhalla. Ok non l'ho fatto io attaccato da solo. Ok. Questo non so mi ricorda molto Super Mario però è bellissimo di sé per sé. Eh sì. Il c'est good joke. Che cazzo è? Che cazzo è? It happened last night. We didn't have a chance your excellency. Our men were overrun. Oh God. Bring me another one. This savage will not notice any difference. Tu dici. Of course your excellency. It's just that the bloodhound has taken all the women. What a useless bunch you and your men are. Ora gli spacca la mazza in testa. Bring that woman back. And do not come back without good news. Ha. I will take care of this savage until then. Of course your excellency. Ok. Beh è fattibile. Ok. You can now build a shaman's hut. Shaman's are said to be excellent healers and are adept to brewing potions. Ottimo. Ma ora come ora meglio di no. Cioè partiamo sempre col classico. E prima di tutto occupiamoci di creare un capanno del taglialegna, delle cose, bla 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 bla. Come sempre. Ma innegabilmente fatto ciò signori purtroppo sono costretto a inventarvi che il tempo è tirato. E direi che ci possiamo beccare nel prossimo episodio. E direi che ci sono costretto a inventarvi che il tempo è stato 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 costretto a inventarvi che il tempo è